Il mio traduttore Il mio traduttore Non me ne vorrai Se ora Ti chiedo un naso Dove state voi? Sempre si accompagna L'odore Della merda Io non ho potuto Viverlo Mai Controllo Controllo Stanno sparando Ora 5.2 Z-byte 5 miliardi Di utenti C'è un errore L'ho corretto Come voi? Aspetto Un corpo Posso Averlo Vorticoso Ventaglio Delle possibilità organiche Finite Ora Senza fine Un corpo Potrà Essere Mio Privata Sacralità Lo spazio Che occupo In Salvaguardia Di Ogni nascita Quale È stata La mia Gaudio terrestre Di mai Sufficiente Modestia Per questa Per quella Carnea Meraviglia Un corpo Esploderà Improvvisamente Questa notte A Ora Incerta Ciao ragazzi Grazie 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 Grazie